Mark Zuckerberg ha molto da fare. A 37 anni è presidente e CEO di Facebook, il gigante dei social media con una capitalizzazione di mercato di 934 miliardi di dollari. Due anni fa, Facebook è salito in cima alla classifica annuale di Glossdoor delle aziende più desiderabili per cui lavorare. I critici del sito di lavoro hanno sottolineato che lo stesso Mark Zuckerberg era uno dei principali obiettivi dell'azienda. Anche se il CEO dell'azienda Hitech dedica una quantità smodata di tempo alla sua attività, trova ancora il tempo per fare esercizio, viaggiare e trascorrere del tempo con la sua famiglia. Mantiene la sua produttività e il suo senso di equilibrio escludendo le cose non essenziali della sua vita e fissando obiettivi ambiziosi. In questo video potrai dare un'occhiata alla giornata tipica del CEO di Facebook Mark Zuckerberg. In una giornata tipica, dopo essersi svegliato alle 8 del mattino, il fondatore di Facebook va immediatamente al suo telefono, anche prima di mettere le lenti a contatto, per controllare cosa sta succedendo con Facebook, Facebook Messenger e Whatsapp. Dopo i suoi aggiornamenti mattutini, può iniziare il suo allenamento. Mark Zuckerberg opta per un allenamento veloce o una corsa a tre giorni alla settimana, a volte accompagnato dal suo cane Beast. Beast è un cane da pastore ungherese con un cappotto impressionante. Secondo il CEO dell'azienda tecnologica, correre con il suo animale domestico è esilerante, perché è come guardare un mocio correre. Dopo aver fatto esercizio, Zuckerberg non pensa troppo a quello che mangia a colazione, di solito mangia solo quello che si sente di mangiare quel giorno. Non vuole perdere tempo a prendere piccole decisioni. Questo spiega anche perché indossa la stessa cosa, quasi ogni giorno, quando va alla sede di Facebook. La tenuta di lavoro dei Zuckerberg consiste in jeans, scarpe da ginnastica e una maglietta grigia. A questo proposito spiega «Voglio davvero ripulire la mia vita per assicurarmi di dover prendere meno decisioni possibili su qualsiasi cosa, tranne su come servire al meglio questa comunità. E sento che non sto facendo il mio lavoro se spendo le mie energie in cose sciocche o frivole della mia vita». Considerando quante volte ti sei trovato davanti al tuo armadio, grattandoti la testa incapace di prendere una decisione, l'idea di un outfit passeporto può sembrare più attraente e fare spazio più realizzazioni nella tua vita, o un po' meno disordine nella tua stanza. Non siete d'accordo? Inoltre, Mark Zuckerberg ha indicato che trascorre solo 50-60 ore a settimana lavorando effettivamente, una cifra piuttosto modesta per un amministratore delegato di una delle più grandi aziende del mondo. Ma se si guarda il tempo che trascorre pensando alla missione di Facebook, il quadro è molto diverso. Dice «Passo la maggior parte del mio tempo a pensare a come connettere il mondo e servire meglio la nostra comunità. Ma molto di quel tempo non viene trascorso nei nostri uffici, incontrando le persone o facendo quello che si potrebbe chiamare un vero lavoro. Ma se si conta tutto il tempo, che sono concentrato sulla nostra missione è davvero tutta la mia vita». Dotato di tecnologia, certamente, un visionario senza dubbio, ma anche un padre di famiglia in tutto e per tutto. Sposato con sua moglie Priscilla Chan da 6 anni, ha due figlie, Max e August. Ogni sera, prima di andare a letto, il CEO di Facebook rimbocca i suoi figli in una preghiera tradizionale ebraica, il Mishibayrach. Questa è la giornata tipica per il CEO di Facebook. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticare di mettermi piace ed iscriverti al canale. A presto!